Ciao a tutti e benvenuti sul canale, oggi vi parlo di due news, anzi un rumor che però sta diventando news che riguarda ovviamente come avrete capito Final Fantasy IX e un altro che è veramente una news in realtà che riguarda Star Wars Jedi Survivor che è stato rinviato. Allora iniziamo però da Final Fantasy IX, cosa è successo? Vi faccio un piccolo recap di tutto ciò che sappiamo finora, parlando ovviamente del remake di Final Fantasy IX. Ci sono stati dei leak da NVIDIA GeForce Now l'anno scorso in realtà e nessuno ci stava, insomma, stava dando peso a questi leak perché erano appunto tali, ma alcuni dei progetti leakati sono stati confermati ufficialmente poi tipo Chrono Cross, Radical Dreamers, il nuovo Tomb Raider, Kingdom Hearts 4 eccetera. Dunque i leak si sono dimostrati affidabili e perciò perché non crederci, perché non riporre un po' di speranza nei leak visto che alcuni erano effettivamente veri. Tra i giochi c'era anche Final Fantasy IX, ovvero il remake di Final Fantasy IX. A mio avviso uno dei capitoli della saga di Final Fantasy, non proprio sottovalutato, se io avrei detto sottovalutato, ma non proprio in realtà, forse dimenticato semplicemente e non capisco bene perché. Si parla sempre del 7, si parla molto anche dell'8, del 10 e il 9 rimane sempre un po' lì. E quindi sono abbastanza contento, cioè sarei felice se questo remake effettivamente fosse realtà perché riporterebbe un po' di luce su Final Fantasy IX che secondo me è un capitolo molto bello. Continuiamo però con i leak, anzi con le notizie, perché Yoshinori Kitase, che è il director di Chrono Trigger, Final Fantasy VI, VII eccetera, ha detto che il 2023 sarà un grande anno per la saga di Final Fantasy e ha parlato ovviamente di Final Fantasy VII Rebirth, di Final Fantasy XVI e di un terzo progetto ancora non annunciato, che potrebbe essere proprio quel Final Fantasy IX di cui si parlava nei leak di NVIDIA GeForce, now. E poi c'è stato un altro leak da 4chan, che come tutti i leak di 4chan ovviamente è stato preso con le pinze, con molte pinze. Ma tra le tante informazioni di questo leak ce n'è stata una che poi si è rivelata vera, come è successo per il leak di NVIDIA GeForce, now. E sostanzialmente ha cominciato a dare credibilità al leak di 4chan. E questa news era che, relativa al sistema di pagamento di Final Fantasy XIV, ora non so bene in che cosa consistesse, ma si è dimostrata vera. E quindi anche questo leak potrebbe essere credibile. E nel leak si parlava proprio dell'annuncio del remake di Final Fantasy IX in arrivo a breve. Dicono addirittura che il gioco dovrebbe uscire in autunno. Si parla di una data del 7 febbraio in cui ci sarà un grandissimo annuncio, vedremo, non ne siamo sicuri. Ma a mio avviso è probabile, è probabile che ci sia qualcosa in lavorazione per un remake di Final Fantasy IX. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa prima di passare alla prossima news, ovvero il rinvio di Star Wars Jedi Survivor, che doveva uscire, non ricordo bene la data, ma a marzo, è stato rinviato al 28 aprile. E quindi uscirà il 28 aprile 2023. Secondo me la scelta è saggia, quantomeno dal punto di vista del marketing. Poi dicono che il prodotto non era proprio pronto, quindi volevano rifinirlo e va bene. Ma dal punto di vista di marketing è sicuramente una scelta saggia. Dato che a marzo, raga, esce veramente il mondo, escono un sacco di produzioni interessanti e Star Wars Jedi Survivor magari sarebbe stato un po' sopraffatto da tutto ciò che esce in quel mese. Aprile invece è un mese abbastanza vuoto e Star Wars Jedi Survivor potrebbe andare bene in quel periodo, proprio a livello di interesse generato e dunque magari anche di vendite. Perciò, ecco, sono abbastanza contento anche di questa scelta, anche perché se fosse effettivamente vero che è stato rinviato per dei problemi, diciamo, di natura tecnica e andava un po' rifinito, beh, è perfetta, è bene, è bella questa notizia, perché non vogliamo ritrovarci per le mani, ovviamente, come al solito, giochi che vengono lanciati senza essere pronti. Quindi è comunque un bene in qualsiasi ottica la vediamo. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo breve video di news. Fatemi sapere se vi interessa il format, ve lo porto più spesso, magari con un appuntamento settimanale fisso, decidiamo insieme. Fatemi sapere nei commenti e noi ci vediamo, come al solito, al prossimo video. Ciao, raga!